Ho visto cose che voi umani non potreste mai immaginare. Ho assistito a viaggi al centro del colon e ho scoperto cosa si cela dentro di un buco nero. Ho esplorato i misteri della Via Lattea e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come sperma nella pioggia. Benvenuti nel futuro di Squillo Deep Space 69. La nuova creatura di Emmanuel Castro sarà presentata a Lucca Comics & Games 2017, approvato da Lega Nerd. Chi sarà il nuovo signore galattico del piacere?